Gentili telespettatori buona giornata il leader della Lega Matteo Salvini è convinto che il PD vuole aprire la crisi e far cadere il governo vediamo quali sono le idee del capo della Lega in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El País Salvini si concratula intanto con la vittoria di Isabel Diaz a Iuso. Dice siamo in sintonia con lei per le posizioni su riaperture e lavoro e per il coraggio di essere forza di governo. Per Salvini il PD europeo dovrebbe seguire la linea a Iuso. Dice su questioni come lavoro, libertà, famiglia o sicurezza sarebbe un interlocutore naturale. A Bruxelles Salvini conferma di essere al lavoro per creare un grande partito di centrodestra alternativo ai popolari unendo i partiti che fanno parte di identità e democrazia, il gruppo dove c'è la Lega, i conservatori e gli ex popolari per coinvolgere almeno 150 deputati. Voi sapete che Giorgia Meloni è stata nominata presidente dei conservatori europei e allora Salvini anche lui vuole fare il presidente di un partito europeo e sta cercando di fondarne uno e di mettersi a capo di questo partito europeo. Mentre a proposito di politica italiana Salvini dice che Enrico Letta e il PD stanno lavorando per far cadere il governo o aprire una crisi e ricorda che la Lega e il centrodestra sono la maggioranza assoluta e sottolinea che la scelta di entrare nel governo alla lunga sarà vincente perché se otteniamo risultati la gente capirà. Beh, insomma, diciamo che Letta e il PD stanno lavorando per far cadere il governo o aprire una crisi. Io credo questo. Letta sta lavorando per dimostrare alla coalizione di centrosinistra che lui è l'anti Salvini e quindi, a parte essere il leader del primo partito di centrosinistra, lui è anche il leader nel contrastare Matteo Salvini. È il capo degli anti Salvini. Così stuzzica il capo della Lega tutti i giorni, lo critica per raggiungere l'obiettivo, diversi obiettivi. Beh, prima di tutto se fa stancare Salvini, Salvini secondo Letta prende e se ne va come aveva fatto nel governo Conte 1. Andando via dal governo Conte 1 la Lega ha perso tantissimi voti. Letta pensa se adesso io lo faccio andare via da questo governo a quel punto anche qui lui perderà ulteriormente voti. Questo è l'obiettivo di Letta. Naturalmente, se Matteo Salvini dovesse uscire dal governo, forse andrebbe via anche Forza Italia, forse no. Se Forza Italia rimanesse nel governo, Letta potrebbe fare la sua maggioranza Ursula, stile Europa. E poter portare Berlusconi magari a convincerlo perché alle prossime elezioni politiche in Italia stia con il centro-sinistra. Mentre se la Forza Italia esce dal governo seguendo la Lega, lì realmente si aprirebbe una crisi di governo perché principalmente il governo non avrebbe più i numeri, soprattutto al Senato. Non ci sono da tempo più i numeri per poter governare PD, l'EU, 5 Stelle. Poi non si sa neanche che cosa farebbe Italia viva di Renzi, ma Italia viva di Renzi starebbe con la sinistra per cercare di non andare al voto, perché andando al voto Italia viva con un partito dall'1,9% non va da nessuna parte, ovviamente. Con l'1,9% sarebbe destinato alla fine politica. Renzi e il suo partito rimarrebbero tagliati fuori perché c'è la soglia di sbarramento che è al 3%, vuol dire che tutti i partiti che hanno dal 3% in giù non potranno più entrare a far parte né del Parlamento né del Senato nella prossima legislatura. Ma presentarsi a quella successiva ha sempre ammesso che si superi il 3% alla soglia di sbarramento, sempre che poi non venga alzata al 5%. Mentre sulle amministrative Salvini ha dichiarato che sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti, Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto no, altri sarebbero Meloni e Berlusconi. Per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d'accordo abbia proposte alternative perché sia nella capitale che nel capoluogo Lombardo possiamo e dobbiamo vincere, dice. Entro poche settimane dobbiamo decidere. Nel frattempo è arrivato il passo indietro ufficiale dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che si sfila dalla corsa per la poltrona di sindaco come candidato del centrodestra. Albertini dopo settimane scioglie la riserva in una lettera al quotidiano libero e rinuncia alla candidatura per motivi familiari. Grazie per l'affetto ma resto in famiglia, si legge nella lettera inviata al giornale dall'ex sindaco di Milano. Quindi tramonta anche l'ipotesi dopo Bertolaso, anche l'ipotesi Albertini, però c'è da dire che l'incontro nel centrodestra sarebbe dovuto già avvenire da diverse settimane. Giorgia Meloni chiedeva un incontro urgente con Salvini e Berlusconi per parlare proprio delle amministrative. Giorgia Meloni diceva ci vuole mezz'ora per metterci d'accordo. Però Salvini aveva risposto che lui non aveva tempo di pensare alle amministrative ma lui, visto che è nel governo, deve pensare ad altro, la priorità è un'altra. Però adesso Salvini dice un'altra cosa, dice che Meloni e Berlusconi in settimane che dicono di no. Ma il fatto è che dovevate incontrarvi, come diceva Giorgia Meloni, almeno mezz'ora. Quest'ora avevate già deciso, vi eravate già divisi le città. Questa città propongo io, in questa la proponi tu, perché devono dividersi le città. Milano decide la Lega, Roma decide Fratelli d'Italia, Napoli decide Forza Italia. E per le altre grandi città una ciascuno e poi ogni partito mette il suo nome ed è finita lì. Gli altri lo devono approvare ma è solo un proforma l'approvare i nomi che propongono gli altri partiti. Quindi ci vuole poco, basta incontrarsi, mettere giù dei nomi e basta. Tanto l'importante poi sono le politiche nazionali più che le comunali. Per quanto possano essere importanti si decide e poi si va avanti e vinca quello che poi ha più voti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video tra una ventina di minuti. Poi siamo anche in Facebook e anche nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Arrivederci a tutti.